ecco ce l'abbiamo fatta sostanzialmente è un modo automatico credo che vi potrà piacere molto di prendere la dinamica del mercato o tirando una linea di proiezione che prende la pendenza da qua a qua e la mette in relazione con la pendenza da qua a qua è un modo diverso molto diverso di fare le linee che ho tracciato io che ripeto erano queste la differenza è sostanziale mentre io qui identifico una banda di lavoro dei prezzi e della ricerca di quello che è stato un eccesso perché quando riesco riusciamo a fare linee così chiare perché ci permettono di vedere veramente un grafico con una simmetria importante chiaro che ho bisogno sempre prima di arrivare a fare queste sentenze di un minimo da cui vedo che il mercato parte di un massimo dal cui vedo che poi il mercato declina e devo attendere la formazione di un minimo dal quale vedo il mercato ripartire è qua che io riesco ad avere già una cognizione della situazione se non ho un minimo un massimo e un ritracciamento non ho un'armonia di punto di partenza punto di primo arrivo primo di punto di secondo di ripartenza verso il basso punto di arrivo per poi tracciare un'ipotesi di mappa del territorio dax non la sta prendendo benissimo e qui quindi va dalla ricerca di una congruenza va dalla ricerca di che cosa anche di una tracciatura di una linea di mezzo e quindi vado a vedere se i prezzi lavorano nella parte alta di questo di questa figura un po spostata verso l'alto oppure ci vanno fuori oppure addirittura ci vanno ancora più fuori la forchetta di andrews invece va a prendere sempre questi questi minimi da cui abbiamo poi creato la trendline ma li mette in relazione ipotizzando una pendenza in questo caso di salita che deve far dire che se i prezzi arrivano dove questa linea di tracciatura si proietta verso l'alto 9 volte su 10 questo è un massimo quasi assoluto di tutto questo tipo di figura cioè la forchetta di andrews ha una sua connotazione grafica quasi previsionale e come vedete facendo così stabilisce la posizione di una vera e propria linea mediana all'interno di questo rialzo grazie a tutti